La bellissima e bravissima Elisa Soardi pensate che ha vinto la bellezza di 157.000 euro nella trasmissione televisiva che si chiama proprio I soliti ignoti quel programma che si occupa di cercare di indovinare quelle che sono le identità di determinati personaggi, di determinati esseri umani e pensate che la bravissima Elisa andrà a devolvere, o meglio verranno interamente devoluti questi 157.000 euro all'Inmi Spallanzani di Roma dunque una bella notizia per quanto riguarda l'ospedale Spallanzani di Roma ubicato in Portoense, zona Monteverde Portoense sono convinto che apprezzeranno e non poco questo bellissimo gesto che la bravissima e bellissima nonché affascinante Elisa Soardi ha avuto andando a vincere la bellezza di 157.000 euro ieri ai soliti ignoti il programma in cui bisogna indovinare le identità di esseri umani, di persone grazie a tutti utenti di Youtube al prossimo video da Leandro, un narratore italiano